E se la vita mi avesse annientato senza darmi una rivincita? E se gli altri mi avessero escluso dal mondo, io avessi escluso gli altri? E forse sarai anch'io un senza tetto. Vai sul sito progettoarca.org e scegli la donazione regolare. E grazie a Progetto Arca potrai donare coperte, pasti caldi e accoglienza in case vere. In un anno abbiamo distribuito oltre 400.000 pasti, soccorso più di 13.000 persone. Con meno di un euro al giorno aiutiamo i senza tetto, uno per uno. Non dimenticarti, fallo subito.